C'è un boccaccio napoletano che è poco conosciuto, almeno lo è stato fino a qualche anno fa, fino a che Matteo Carrone non fece un film sulla sua opera, di cui oggi vorrei parlarvi. In particolare vorrei parlarvi della sua opera, che è Lucunto degli Conti, vale a dire il racconto dei racconti. Sto parlando di Giovanni Battista Basile, che scrisse quest'opera molto debitrice al Decamerone tra il 1634 e il 1636. Vi mostro intanto la copertina del primo volume che Einaudi qualche anno fa ha dedicato alla ristampa di questa opera, che è una ristampa molto preziosa, molto divertente da leggere e che effettivamente a scuola, nelle nostre scuole, viene un po' obbliata. Non so per quale motivo, anche se un sospetto ce l'ho. Allora, oggi vorrei parlarvi di questo testo che è anche molto divertente, perché è stato capace di intrattenere centinaia di generazioni, dal Seicento ad oggi, ed è un testo che raccoglie una serie di spunti narrativi e fiabeschi, ai quali poi in secoli successivi attinsero personaggi come i fratelli Grimm o come Hans Christian Andersen. Quindi anche grandi scrittori europei hanno fortemente attinto a questa tradizione novellistica partenopea. Vi suggerisco, come sempre, prima di andare avanti, l'iscrizione a questo canale per cercare di far crescere il numero di coloro che seguono questi miei video. Ci sono tre playlist nelle quali potete tranquillamente navigare con tutta la libertà del caso. Allora, il conto dei conti. Questa bella versione, che è stata ripubblicata nei primi anni 2000 da Einaudi, è stata riscritta da Roberto De Simone, saggista, narratore a sua volta e grande curioso di cose belle legate alla tradizione napoletana, che ha un po' ammodernato il testo di Basile, che effettivamente è molto arcaico, risente molto della volgata popolare, del linguaggio dell'epoca, parliamo appunto del 600, epoca in cui a Napoli succedevano tutta una serie di dominazioni che si scambiavano di posto come se fosse, che so, il gioco dei quattro cantoni, angioini, spagnoli, musulmani e così via. E tutta questa grande, in fondo, temperie culturale e anche tutta questa mescolanza etnica produsse tutta questa fantasia che poi in realtà una vera e propria fantasia non è, e non è certamente invenzione, perché Basile a sua volta si ispirò in maniera molto forte alle leggende, alle fiabe, alle tradizioni orali del popolo. Dicevo, per quale motivo il punto degli punti è un po' nascosto a scuola, viene nominato giusto di passaggio? Beh, perché il linguaggio è molto scurrile, molto adulto, è molto provocatorio, si rifà molto a tutta quella serie di definizioni legate, per esempio, ai bisogni corporali che sono molto divertenti, vengono anche dalla commedia dell'arte, ma che a scuola è difficile proporre senza l'imbarazzo dei docenti. Ma se noi riusciamo a superare questa sorta di barriera un po' legata al turpiloquio, che è più comico che altro, beh, ci accorgiamo che il linguaggio di Basile è estremamente ricco, è estremamente affascinante, avvolgente, riesce a trasmettere tutta una serie di idee, di immagini che sono davvero mirabili, mirabolanti, favorendo anche tantissimo la crescita anche intellettuale proprio delle persone, dei giovani in questo caso, dei ragazzi. Dicevo qualche anno fa Matteo Garrone trasse un film da questo libro, che qui è riproposto in due volumi, il racconto dei racconti nel quale ci narrava alcune delle novelle presenti in questa raccolta. In tutto sono 50 novelle raccontate da dieci fanciulle in cinque giornate. Ritorna un po' l'eco del De Camerone di Boccaccio. Vi leggo soltanto l'inizio di una di quelle novelle che sono anche presenti, trasposte in film appunto nella pellicola di Garrone. Si intitola La pulce ed è la storia di un re avventato che alleva una pulce fino a farla diventare grande come un castrato, poi la fa scuogliare e offre la figlia in premio a chi sappia riconoscere la natura di quella pelle. Un orco al solo odore imbrocca la risposta e si prende la principessa che poi è liberata da sette figli di una vecchia con altrettante imprese. Quindi la sbadataggine dei re, la superficialità di questo monarca, la tenerezza che ispira questa ragazza sposa di un mostro, non è certo simpatico come Shrek, e anche poi le imprese ardimentose di sette ragazzi, figli di una vecchia, ognuno dei quali specializzato in una sorta di caratteristica propria, umana, che lo distingue dagli altri. Uno per esempio è in grado di ascoltare dei suoni che arrivano addirittura da trenta leghe lontani, un altro è in grado di sputare per terra e far nascere un corso d'acqua, un altro ancora è in grado di gettare delle lame a terra e far crescere immediatamente una barriera di vetro che impedisce l'avanzata dei nemici e così via. E questo è effettivamente un frammento di questa storia che è molto divertente e che racconta poi effettivamente questa dialettica fra il padre, il re e sua figlia, che lui vuole vada in sposo all'orco perché ha dato la sua parola. Una volta, essendo il re d'Altomonte morsicato da una pulce, catturatala con abile destrezza, la vide così bella e pasciuta che ebbe scrupolo di ammazzarla sul patibolo dell'unghia. Allora la mise in una caraffa e, nutrendola ogni giorno col sangue del proprio braccio, quella sviluppò una tale crescita che dopo sette mesi, rendendosi necessario un cambio di alloggio, man mano divenne più grossa di un castrato. Questa è, ripeto, non la traduzione, ma l'adattamento di Roberto De Simone. Il linguaggio di Basile è diverso e cerco di leggerlo per farvi un po' notare la differenza. Essendo una volta lo re d'Altomonte mozzecato da no polece, pigliatolo con una bella destrezza, lo vide così bello e chiantuto che non le parve coscienza di condannarlo un coppa lo talamo dell'ugna. E perciò miselo dentro una caraffa e, nutrendolo ogni giorno colo sangue dello proprio braccio, Chillo fu de così bona crescenza che in capo a sette mise bisognano cagnarle l'uovo de ventaglie più grosso de no castrato. Questo è il testo di Basile originale e quello che ho letto prima invece è l'adattamento di Roberto De Simone. Un libro, anzi due libri molto divertenti per capire meglio un po' non solo la temperie culturale di Napoli nel 600, ma anche per capire come le fiabe, che poi ci hanno raccontato anche i nostri nonni magari quando eravamo ragazzini e che erano tratte appunto da grandi narratori di fiabe europei e erano a loro volta ispirate a questa tradizione che Basile scrive ma che era una tradizione orale. C'è anche Cenerentola addirittura, quindi Cenerentola ha una tradizione non certamente nord-europea ma probabilmente proprio partenopea. Mi fermo, vi ringrazio, iscrivetevi a questo canale, questo è il conto degli conti di Gian Battista Basile nella riedizione e adattamento di Roberto De Simone. Grazie ancora e a presto.